Ciao ragazzi, aggiornamento dello shop, andiamo veloce veloce perché non è uscito niente di nuovo il bundle delle tartarughe ninja 3400 vbac, 1600 presi singole, poi il bundle di epiloneil, splinter il bastone di splinter abbastanza traiardino, 800 vbac cozzile, 2 skin marvel, poi la striscia serie di icone con surfista sonico il ragazzo mente, luce stellare, freccia di cupido, che è forse la più carina che c'è da shoppare, urrà, 300 vbac cozzile poi vediamo se ci sono altre robe in cui vale la pena soffermarsi, secondo me no raga, c'è il refungo, 1500 vbac 1000 vbac, se avete già i pecconi che davano gratis, devi a tano, 2000 vbac skin super classica, ma raga davvero brutta poi c'è aspen, betulla, sunspot, mossi di ghiaccio, 400 vbac, forse questo è carino abbiamo ad Anna degli abissi, non lo so raga, così così, lama cadabra, 800 vbac, questo balletto carino ma sempre la solita roba degli 800 vbac che è un po' secondo me esagerata come prezzo poi abbiamo metà, penso che sia finito, la realtà metallica, si è bloccato il gioco comunque eccoci qua, le tracce gem, i pacchetti bundle, le skin estive e basta raga, penso che mi pare che sia finito abbiamo ancora, non so se ci sono passato, si si si, lo zainetto di fallout, livelli, scala livelli, insomma tutte le robe, si no scala livelli ovviamente i livelli del pass, ci fermiamo qui domani live dalle 11 della mattina, se vado a venire a giocare, passate ciao